guarda oh non c'è questo stamattina porca miseria no ti dici che devo andarti lì no c'è il tubo in mezzo però che dobbiamo togliere dobbiamo riportarlo su qua qua dove è arrivato cacchio chi vuole da bere abbiamo anche da bere poi porteremo via anche questa adesso pensa quando l'abbiamo tagliato questo l'abbiamo tagliato tutti noi a mano tutti a mano l'abbiamo tagliato questo era il vecchio acquedotto che portava sull'acqua ma da giù sotto là fino a su in cima dell'alatoio e siccome l'hanno abbandonato l'abbiamo tagliato tutto no ma perché è gelato adesso è gelato giù sulla terra poi sarà pieno di sassi e sopra non per forza buttarlo su al di là del tronco ho detto al di là cazzarola questo e con due non cade giù più adesso qua che sarà tutto il fognato Giuseppe, Samuene, Carlo, Andrea tutti li conosce a parte che sarà peggio più avanti qua sai che mi faceva strano andarci su siamo andati su quella cacina a volte figa dopo quasi due anni e mezzo faceva strano tanto sì le mani ghiacciate tanto non riesco lo stesso queste sono calde ma tu basta vai lasci la moto e vai su a piedi fino a là lì c'è la zona testa dei spampi sarà lì adesso tagliamo via grazie grazie grazie